Il giorno dopo l'annuncio della sottolinearia scoperta dei bronzi a San Casciano dei Bagni nel Senese scoccano i commenti dei più grandi esperti di storia, archeologia e non solo, mentre chi le ha ritrovate deve ancora riprendersi da così tanta emozione sappiamo che avrà l'onore di restaurare tale tesoro con protagoniste 24 meravigliose statue saranno restaurate proprio a Firenze dall'Opificio delle Pietre Dure, l'illusso istituto che ha ben tre sedi sul fronte laboratori. Noto anche con la sigla OPD è un istituto dotato di autonomia speciale del Ministro della Cultura, con sede a Firenze la cui attività operativa e di ricerca si esplica nel campo del restauro delle opere d'arte. Commenti di orgoglio e felicità arrivano dal sindaco di Firenze Dario Nardella che in un Twitter scrive una scoperta straordinaria, orgoglioso e felice di aver appreso che queste statue saranno restaurate proprio a Firenze all'Opificio. una straordinaria opportunità per la nostra città come fu con i bronzi di Riace.